ehi bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xylder e ragazzi oggi siamo qua su fortnite perché c'è una bella roba basugosa che è giusto che anche voi giocatori di fortnite sappiate cosa succede ragazzi domani martedì 27 marzo verrà inserito in fortnite un battle royale starter pack una roba molto molto interessante non costerà neanche tanto ragazzi è un pacchetto che potremo acquistare dal al prezzo ovviamente dallo store interno del gioco di fortnite costerà 4,99 eccolo qua ragazzi alle mie spalle e come vedete avremo tre e dico tre cose che potremmo potremmo inserire nel nostro gioco numero uno avremo il rogue agent outfit praticamente è un completo lo andiamo a vedere ce l'abbiamo ce l'abbiamo il rogue agent agent outfit ragazzi un agente militare una skin da agente militare tutto bardato c'è il casco con la visiera gialla c'è la corazza che non si sa neanche se sia impermeabile oppure no e c'ha tutta la fasciatura gialla di colore nero questa nuova skin meravigliosa meravigliosa ma non è finita ma non è finita ragazzi oltre alla skin nuova ovviamente lo zaino che si chiama catalyst back bling è uno zaino nero sembra quello delle forze speciali molto molto interessante nero anche quello lì appunto con l'antennone che gli esce sopra molto molto figo diciamo per dare un look un pochettino più guerrigliero diciamo al nostro giocatore di fortnite ma non è finita ma non è finita perché non è che con 4 99 che comunque è un prezzo onestissimo per quanto sappiamo costino le skin di fortnite otterremo solamente la skin dell'agente lo zaino no no ragazzi per 4 99 ci daranno anche 600 v bucks molto interessante se pensiamo ad esempio di metterli via per il prossimo pass battaglia se per caso abbiamo ancora dei v bucks bonus che possiamo sbloccare avanzando nel pass battaglia diciamo di averne almeno 4 vale la pena ragazzi pensarci 4 99 abbiamo già 600 v bucks ne mettiamo via altri 400 ci facciamo per la prossima stagione che dovrebbe incominciare più o meno tra una quarantina di giorni il nuovo pass battaglia praticamente ce lo siamo già pagato tra l'altro ragazzi abbiamo visto anche che in questi giorni su fortnite è uscita un'altra skin meravigliosa ragazzi troppo bella la rockstar ragazzi guardate che meraviglia vogliono 2000 v bucks vogliono per la rockstar ma è veramente tanta tanta roba e non solo ragazzi non solo non è uscita solamente la skin della rockstar ma è uscita anche la nuova emote ragazzi che c'è lui che balla da fermo bellissima quella costava 200 v bucks invece sono sicuro che avranno modo di riproporcela durante questi giorni che giocheremo a fortnite so che molti di voi chiederanno chiudere invece per fortnite mobile come sia messi allora ragazzi io ve lo ricordo ancora in questo video ragazzi non esiste ancora fortnite mobile per android vi prego vi prego vi prego non scaricate niente è inutile guardate vedere i video su youtube c'ho fornezzo android c'ho fortnite sul mio bananone no non scaricatelo ragazzi non scaricate niente io l'ho fatto io con un telefono da test ho preso i virus quindi ragazzi non vi preoccupate che su questo canale saprete subito appena uscirà fortnite per android prima di salutarvi ragazzi però vi ricordo il contest che c'è questa sera allora estrarremo ancora un vincitore che vincerà 1000 v bucks offerti direttamente dall'oxyuder come fare per partecipare easy easy vi basta solamente mettere un bel like iscrivervi al canale e andare a commentare il video che ho pubblicato andate a cercarlo con concorso 1000 v bucks vi ricordo anche ragazzi che se non vincete questi 1000 v bucks domenica primo aprile se riusciamo ad arrivare a 9000 iscritti altri 1000 v bucks per uno di voi beh ragazzi direi che per questo video aggiornamento è veramente tutto io vi ringrazio tantissimo per partecipare in così tanti alle live grazie per giocare con me e vi ricordo mandatemi la richiesta di amicizia se volete giocare in live noi ci vediamo presto ciao ciao